Musica Un cordiale saluto a tutto il nostro pubblico. Le previsioni per mercoledì non apportano novità al nostro orizzonte e che rimane protetto dall'influenza dell'alta pressione delle azzorre. A prevalere quindi sarà ancora un tempo stabile. Per quanto riguarda i venti soffriranno da deboli di direzione variabile. Cosa dire poi sulle temperature? Si riporteranno su valori tipici del periodo anche sulle minime notturne che nei giorni scorsi, come sappiamo, erano particolarmente basse. Questo è quanto. L'appuntamento si rinnova come sempre domani. Arrivederci!